Buonasera e bentrovati. La terza edizione della TG6 apriamo con la cronaca giudiziaria. Nella tarda serata di ieri è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione sul processo Sanitopoli che vede imputato tra gli altri l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco. I supremi giudici hanno confermato la condanna per induzione indebita ma hanno rinviato alla Corte d'Appello di Perugia la parte relativa al reato di associazione a delinquere. Alfredo Primante. Ci sarà un nuovo processo d'appello per l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco e alcuni degli altri imputati per la Sanitopoli abruzzese. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione che ieri in tarda serata ha annullato con rivio la condanna per del turco Camillo Cesarone Lamberto IV in relazione all'accusa più pesante, quella di associazione per delinquere. Gli atti verranno inviati alla Corte d'Appello di Perugia che dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio e rivedere la condanna che per del turco in appello era stata ridotta da 9 anni e 6 mesi del primo grado a 4 anni e 2 mesi, anche se la prescrizione maturerà prima della fine del prossimo anno. Una vittoria a metà per l'ex governatore, dato che sono state confermate le condanne per gli altri capi di imputazione connessi alle tangenti nella sanità. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pierluigi Cosensex, responsabile delle commissioni ispettive permanenti istituite dalla regione, contro la prescrizione. Sono state inoltre annullate senza rinvio le condanne per Boschetti, Mazzocca e Conga per via dell'intervenuta prescrizione. Per gli altri capi di imputazione invece le posizioni di Conga e Mazzocca dovranno essere valutate dalla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione delle pene. Sono state inoltre annullate le condanne al risarcimento delle parti civili a carico di Sabatino Aracu ed è stato rigettato il ricorso di Angelo Bucciarelli. E' dunque in sostanza da riscrivere la sentenza d'appello emessa dalla Corte dell'Aquila il 20 novembre del 2015. Rimane aperta tutta la questione inerente ai risarcimento per le parti civili, Regione Abruzzo, varie asle e cliniche private. L'inchiesta sulla sanità abruzzese, che portò alla caduta della giunta di centrosinistra, culminò il 14 luglio del 2008 con l'arresto di Del Turco, allora governatore della Regione Abruzzo, e di altre nove persone, tra cui assessori e consiglieri regionali, in seguito alle rivelazioni dell'ex patron del gruppo Villapini di Chieti, Vincenzo Angelini, che in appello è stato assolto. Del Turco ha passato 28 giorni in carcere a Sulmona e poi altri due mesi agli arresti domiciliari. E c'è grande soddisfazione all'interno della Procura di Pescara per la sentenza della Corte di Cassazione sul processo ad Ottaviano Del Turco. La Cassazione, infatti, ha confermato definitivamente il regato di corruzione, che era il cuore dell'inchiesta, il passaggio di denaro cestato, e questo conferma la correttezza del processo. E quanto ha commentato l'ex procuratore capo della Procura di Pescara, Nicola Tifuoggi, all'epoca capo del pool che insieme ai PM Giampiero Di Florio e Giuseppe Bellelli diedero il via all'indagine dopo le rivelazioni dell'imprenditore della sanità Vincenzo Angelini. Ora la Corte d'Appello di Perugia dovrà solo ricalcolare la pena, dopo che è stato invece cancellato il reato di associazione per delinquere e chiude Trifuoggi. Gli risponde a distanza l'ex presidente del Turco. La montagna di prove che doveva schiacciarmi si è dimostrata per quello che era una montagna di fango. Non trovo in questa vicenda nessun altro senso se non la evidente necessità di dare una parvenza, seppure grottesca, di giustificazione alla infamia che ha travolto una giunta regionale democraticamente eletta e con essa la vita mia e di molti noi, ha concluso del Turco. Politica in lutto per la scomparsa dall'età di 85 anni dell'ex presidente della regione Abruzzo, Rocco Salini. Luci e ombre nella sua carriera politica per uno dei protagonisti della storia politica abruzzese. I funerali saranno celebrati in forma privata. Il servizio. Una carriera che ha toccato tutti i livelli dell'amministrazione pubblica. Presidente della provincia di Teramo, assessore alla sanità e presidente della regione Abruzzo, poi senatore e sottosegretario alla sanità nel governo Berlusconi. Rocco Salini è stato un protagonista della storia e della vita politica teramana regionale e nazionale, attraversando la prima e la seconda repubblica praticamente sempre fedele alla democrazia cristiana. Classe 1931, quella di Salini è stata una lunga carriera politica, costellata di successi ma segnata anche dall'intervento della magistratura per lo scandalo dell'uso scorretto dei 450 miliardi dei fondi POP che portò nel 92 all'arresto dell'intera giunta regionale. Nel 2000 il ritorno in consiglio regionale con Forza Italia, ma in quanto interdetto dai pubblici uffici, nel 2002 dovette dimettersi prima di essere dichiarato decaduto. In Senato è stato presidente della commissione sull'uranio impoverito fino alle dimissioni per contrasti con la maggioranza. Nel 2005, in vista delle elezioni regionali abruzzesi, è stato a capo della lista Terzo Polo, subito confluita nella Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi che contestualmente lo nominò sottosegretario alla sanità del suo governo. Le urne però premiarono il centrosinistra, capitanato da Ottaviano del Turco, con Salini estromesso dal suo incarico di sottosegretario solo un mese dopo averlo ricevuto. Poco dopo il passaggio all'Udeur ed infine l'adesione nel 2008 alla nuova democrazia cristiana. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, in una nota, ha ricordato la figura di Salini sottolineando come se ne sia andato un altro esponente di quella idea politica intesa e spirito artigianale fondata sulle percezioni, sull'intelligenza, sull'intuito istintivo di chi la praticava e non avvezza agli equilibrismi, alle elaborazioni compromissorie cui siamo oggi abituati. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, invece ha ricordato come Salini incarnasse l'uomo posseduto dalla passione per la politica. Il suo spirito battagliero, ha scritto in una nota, lo ha aiutato anche nei momenti più difficili dai quali è sempre riuscito ad uscire con le proprie forze. Salini si è spento nella clinica Spatocco a 85 anni dopo una lunga malattia. La famiglia ha annunciato che i funerali saranno celebrati in forma privata. E questa mattina il sindaco di Cronialeto unitamente alla sua giunta amministrazione e tanti cittadini hanno rimosso le transenne poste a fine agosto per l'evacuazione del paese per pericolo di caduta massi dopo il sisma. Vediamo. A distanza di appena 90 giorni, grazie ad un provvedimento urgente, riapre il borgo di Cronialeto. I lavori urgenti per la messa in sicurezza del versante roccioso a ridosso del paese sono a buon punto, tanto che questa mattina l'amministrazione comunale di concerto con la struttura tecnica ha deciso di togliere simbolicamente le transenne con una cerimonia di riapertura del borgo, chiuso dallo scorso 29 agosto a causa del sisma che ha distrutto Amatrice e che ha comportato uno squilibrio nel versante roccioso che sovrasta il paese con caduta di massi, un pericolo che aveva spinto il sindaco Giuseppe D'Alonso a chiudere gli ingressi del paese e sgomberare 50 abitazioni e 16 residenti. Oggi abbiamo fatto questo momento, questo gesto, questa apertura del paese proprio in maniera ludica con le persone alle quali abbiamo tolto il loro bene primario. Oggi io vedo negli occhi di quelle persone che ho visto il 29, diciamo, con poca fiducia, oggi vedo il sorriso di coloro che apprezzano e riprendono la fiducia nell'istituzione. Questa è la cosa più bella che può, diciamo, rilevare un sindaco che può rilevare un'amministrazione. Il Comune ha ancora le prese con i danni ingenti provocati dai terremoti che si sono succeduti nelle scorse settimane e per giorni è rimasto isolato a causa dei problemi statici al ponte di Aprati. Il primo cittadino ha ringraziato le istituzioni e i suoi concittadini che in questi mesi hanno sopportato grandi disagi dovuti alla situazione di emergenza. Il consigliere regionale Luciano Monticelli ha ricevuto da Luciano D'Alfonso l'incarico di seguire il settore della cultura finora conservato dal Presidente come propria competenza esplicita. Oltre alla carica di Presidente della Quarta Commissione Consigliere Affari Europei la delega va ad aggiungersi a quella di facilitatore per le aree interne concessa a Monticelli ad inizio legislatura a quella per l'applicazione della direttiva a servizi al demanio marittimo assegnata nel giugno 2015 e a quella per i rapporti internazionali ricevuta nel maggio di quest'anno. E dal 5 dicembre a Pescara verranno introdotti i nuovi cassonetti per il conferimento del vetro una nuova iniziativa che punta a ridurre i costi di gestione della differenziata tra le novità annunciate da Attiva S.p.a anche l'abolizione dei limiti di orario. Francesca Romana Tessi Novità per il conferimento dei rifiuti a Pescara si punta a migliorare qualitativamente la raccolta differenziata anche in termini di costi dal 5 dicembre prossimo verranno a posti progressivamente nuovi cassonetti per il conferimento esclusivo del vetro e novità ci saranno anche per gli orari che fino ad oggi erano consentiti per il conferimento. Ci saranno dei cassonetti di colore viola che sono dedicati alla raccolta del vetro noi oggi raccogliamo sostanzialmente vetro, plastica e metallo tutto assieme conferiamo il tutto a una piattaforma che poi distingue, separa il tutto. Naturalmente questo per noi oggi è un costo notevole perché il vetro è l'argomento l'elemento più pesante di questa raccolta e noi con la differenzazione tendiamo a raccogliere soltanto vetro e naturalmente diminuire i costi della cernita e in un secondo tempo ci proponiamo di vendere il vetro e quindi utilizzare questo rifiuto tra virgolette come una risorsa. Liberalizzeremo l'orario di conferimento dei rifiuti diciamo secchi quindi plastica, vetro e metallo verranno conferiti potranno essere conferiti dai cittadini in qualunque momento restano i limiti temporali per il conferimento di quello che è diciamo l'umido la frazione organica l'indifferenziato che ovviamente per motivi igienici e di decoro va assolutamente conferito negli orari indicati sui cassonetti. Casa Artigiani che conta 5 seggi nel consiglio della Camera di Commercio di Teramo ha riunito attorno ad un tavolo i principali esponenti delle altre associazioni di categoria per valutare i scenari possibili in vista dell'elezione del nuovo presidente dell'ente camerale all'incontro hanno partecipato Confindustria CNA e Confagricoltura nella riunione Casa Artigiani ha invocato la necessità di ricercare una soluzione unitaria per l'elezione del nuovo presidente offrendo come ipotesi di mediazione anche la propria candidatura inoltre è stata ribadita la necessità di non disperdere l'unità del tessuto imprenditoriale Teramano e di definire programmi concreti in favore delle imprese la decisione finale è stata quella di stilare un documento programmatico comune che punti al rilancio dell'attività camerale tenendo conto dei due momenti importanti l'elezione del presidente della camera di commercio di Teramo fissata a gennaio prossimo e alla nascita della nuova camera di commercio del Gran Sasso d'Italia prevista per la fine della 2017 un flash mob per richiamare l'attenzione sui temi della disabilità e quanto organizzato a Giulia Nova dai comitati di quartiere Lido Domenico di Silvestro è annunziata il servizio l'iniziativa nasce per ricordare la giornata di oggi il 13 dicembre che è la giornata internazionale delle persone con disabilità nasce da questo e si sviluppano delle riflessioni sulla convenzione la convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità che il 13 dicembre compie 10 anni disabile a chi? cambieremo il linguaggio e cambieremo il mondo è il titolo del flash mob di sensibilizzazione organizzato questa mattina al Cursal di Giulia Nova l'iniziativa è stata portata avanti dai comitati di quartiere Lido Domenico di Silvestro è annunziata con il patrocinio del comune dell'Università di Teramo dell'Associazione La Meridiana e della APM Associazione Paraplegici delle Marche la cosa bella che mi sono sentito stamattina è che quando mia moglie si è alzata mi ha detto auguri auguri perché oggi è la nostra festa e di questo mi ha rallegrato un po' io dico solo questo è vero sarà anche la nostra festa sarà una giornata di sensibilizzazione dobbiamo sensibilizzare però io voglio ricordare le persone che comunque anche domani siamo disabili Nell'ambito dell'iniziativa è stato anche presentato il progetto Anello Blu adottato dal comune è un percorso citabile un percorso accessibile per le persone con disabilità e quindi dalle parole alla normativa agli atti concreti Palazzo Sgarone a Città Sant'Angelo ospiterà 25 unità abitative per anziani un'opera che costerà 1,6 milioni di euro come annunciato dall'azienda per i servizi alla persona che cura il progetto Città Sant'Angelo celebra un nuovo traguardo per le politiche sociali un nuovo spazio dedicato agli anziani che offrirà 25 alloggi dopo la ristrutturazione di un antico palazzo di città Il Palazzo Sgarone del 1865 quindi tantissimo tempo fa finalmente viene ristrutturato e ridato agli anziani 25 nuove camere con bagni in camera l'eccellenza per gli anziani quindi l'azienda servizi alla persona che si occupa del sociale con la legge regionale del 2011 finalmente comincia ad attuare i progetti ad attuare le realtà noi gestiamo 4 case di riposo tutte stabili del 1800 questa è la prima dei 4 che ristruttureremo ristruttureremo piano piano anche le altre la casa del sole l'abbiamo già fatto questa è la seconda quindi riteniamo che il futuro è l'assistenza circolare pubblico privato con l'ASP che gestisce la progettazione qui abbiamo vinto un bando regionale da 1 milione 6 in 18 mesi per ristrutturare questo palazzo di 4 piani per 25 camere singole e con relativi bagni e spazi comuni all'Aquila si è parlato di malattie professionali nel comparto agricolo in un convegno organizzato dall'UNIL con la partecipazione anche di INAIL e Regione Abruzzo Germana Dorazzi le malattie professionali in agricoltura sono state al centro di un convegno organizzato dall'UNIL l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Unione nel capoluogo una giornata di ricerca con tutte le compagini sociali e istituzionali tra queste immancabile l'INAIL attraverso il suo rappresentante rimarca il trend decrescente degli infortuni sebbene salga il numero dei morti sul lavoro rispetto al 2009 la Regione Abruzzo conta meno il 30% di infortuni purtroppo invece si registrano ancora infortuni mortali c'è un aumento nel 2015 rispetto al 2014 perché siamo passati dalle 32 morti sul lavoro del 2014 alle 38 del 2015 questo è un dato preoccupante che non ci può far abbassare la guardia ecco perché manifestazioni come questa di questa mattina con l'UMNIL serve anche a risvegliare un po' le coscienze su questo fenomeno nel corso del convegno è stato stabilito che sulle malattie professionali in agricoltura sarà instaurato un tavolo tecnico di confronto in cui la Regione Abruzzo farà da mediatore tra gli enti preposti quale sarà la nuova sede delle associazioni attualmente ospitate all'interno dell'ex caserma Pierantoni questo è l'interrogativo a chieti associazioni cittadini e consiglieri si sono riuniti per discutere della riconversione dell'edificio in casa dello studente perplessità chieti per il cambio di destinazione dell'ex caserma Pierantoni in zona Santa Maria la questione messa sul piatto è quella della nuova destinazione delle associazioni attualmente presenti abbiamo aderito senza riserve al progetto intercorso tra Comune di Chieti Regione Abruzzo e Università Gabriele D'Annunzio nella manutenzione straordinaria e riqualificazione edilizia della caserma Pierantoni destinata a casa dello studente nello stesso tempo però sono e siamo preoccupati del destino di queste associazioni in questo sito ce ne sono oltre 20 che raccolgono quasi 4.000 persone e che rappresentano queste associazioni un importante un importantissimo polo di aggregazione e di socializzazione e anche culturale ho portato una mozione alla giunta per incontrare i rappresentanti di queste associazioni e creare una situazione logistica diversa purtroppo non c'è stata nessuna risposta né tantomeno la commissione cultura alla quale ho cercato di come devo dire di sollecitare degli incontri per risolvere questo problema si è mai riunita per questo problema specifico la richiesta vuole essere quella di un nuovo incontro assolutamente si deve essere fatta per la città di Chieti va benissimo la casa dello studente ripeto senza riserve ma queste associazioni sono veramente importanti per la nostra città e tra gli appuntamenti dall'8 dicembre all'8 gennaio la casa di Babbo Natale a Castel Castagna di Teramo sarà aperta a tutti i bambini che vorranno scoprire la magia di un luogo da favola per un mese intero sono previste attività e laboratori una pista di patinaggio su ghiaccio e poi la grande sorpresa con l'arrivo delle renne Tania Bonnici Castelli per la gioia dei più piccoli Babbo Natale torna con tanto di renne al seguito per un intero mese dall'8 dicembre all'8 gennaio nella dimora di Castel Castagna in provincia di Teramo davanti alla millenaria abbazia di Santa Maria di Ronzano la casa di Babbo Natale a Castel Castagna è in seconda edizione consiste proprio nella casa di Babbo Natale dove all'interno ci sono laboratori ludici e didattici per cui è assolutamente dedicata a bambini e famiglie questa seconda edizione non poteva assolutamente mancare dopo il successo dell'anno scorso che ha visto 35.000 visitatori quest'anno abbiamo deciso di ampliarla ulteriormente con un laboratorio nuovo tra l'altro ci saranno in alcune date prestabilite tra l'altro nell'area antistante la casa di Babbo Natale a Castel Castagna verrà allestito un mercatino natalizio ci sarà anche una pista di ghiaccio e sarà possibile visitare l'abbazia di Santa Maria di Ronzano nonché stanno realizzando un presepe artigianale la prologo di Castel Castagna la manifestazione natalizia a Castel Castagna è sostenuta dal BIM di Teramo che punta così a rilanciare l'economia dell'entroterra terramano sempre più in difficoltà dopo gli ultimi eventi sismici la montagna terramana in ripresa? ma io me lo auguro stiamo in difficoltà enorme quindi il consorzio stiamo collaborando con i vari comuni per far sì di far conoscere il nostro territorio non solo ma per dare una speranza la logica che abbiamo nella situazione lì a Fanatriano è quello che è abbiamo un punto indologativo per quanto riguarda Prato Selva abbiamo Prato Editivo che non sappiamo ancora il sindaco ha qualche perplessità Castelli lo sappiamo in quale stato ma tanti altri comuni c'è da lavorare c'è da lavorare tantissimo a Pescara la Lilt ha presentato gli eventi del mese di dicembre alle porte della Natale in collaborazione con l'amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'argomento prevenzione Paolo Renzetti Rosa come i Pink Floyd come la prevenzione oncologica destinata alle donne che annualmente la Lilt la lega italiana per la lotta ai tumori mette in campo con visite senologiche gratuite la solidarietà a Pescara quindi si tinge di rosa con due eventi musicali prenatalizi il primo sabato 3 dicembre con il concerto del Contempora rivoca all'ensemble del Conservatorio d'Annunzio di Pescara diretto dal maestro Angelo Valori che nella sua seconda edizione si svolgerà nel santuario del Sacro Cuore e sarà preceduto alle 19 da una Santa Messa poi ancora sabato 17 dicembre al Cinema Massimo con l'evento Pink Floyd del gruppo pescarese dei Paintbox uno spettacolo rosa il cui ricavato sarà devoluto alla Lilt per continuare a finanziare la campagna del nastro rosa 2016 per la prevenzione del tumore al seno che è tuttora in corso con oltre 400 prenotazioni queste attività saranno rivolte a due progetti che abbiamo in atto un progetto che si chiama Vado che significa volontari a domicilio Vado a domicilio dei pazienti che hanno bisogno di supporto e di qualsiasi cosa di sociale e assistenziale e il secondo invece è per continuare con le visite che stiamo facendo senologiche perché non siamo riusciti a finire e a portare a termine le prenotazioni è importante sostenere questa associazione che è un'associazione assolutamente no profit che però è di grande aiuto e di grande sostegno sia per le persone che soffrono purtroppo di queste patologie e sia perché va a integrare quell'azione nel territorio che viene fatta dagli enti preposti ed ora passiamo alla pagina sportiva l'allenatore Massimo Oddo carica la squadra in vista della partita di domani contro il Cagliari assenti coda Campagnaro Baebec e Mitrita in difesa ballottaggio Fornasier Ghiomber per un posto al fianco di Zuparic in attacco Pepe Venali a sostegno di Caprari ascoltiamo nel servizio l'allenatore Massimo Oddo le chance ci possono essere per tutti l'importante è che fanno vedere in allenamento che stanno bene quindi non precludo nulla a nessuno dipende tutto da loro Fornasier è entrato in gruppo sarebbe rientrato già da due o tre giorni poi noi siamo andati a giocare ma si è allenato regolarmente sta bene ieri ha fatto tutto quindi è disponibile Ghiomber ha fatto 90 minuti l'ultima partita quindi sulla carta dovrebbe farli poi è ovvio che rientra da tanto tempo e speriamo che possano entrambi reggere tutta la partita se dovessero andare in campo la scorsa abbiamo fatto un grande campionato siamo riusciti ad arrivare in Serie A con la forza del gruppo io sono uno che difficilmente salta il singolo perché poi chi gioca bene lo sa che ha giocato bene quindi non c'è bisogno di andare a sottolineare se non l'ho fatto specialmente in momenti in cui determinati giocatori passavano periodi difficili e hanno saputo reagire il mio discorso è riferito al gruppo in generale e anche lì chi sa sa chi deve arrivare il messaggio lo sa per i giocatori che non giocano mai invece era un'opportunità importante e nelle opportunità importanti quelli sono i momenti in cui i giocatori devono rispondere domani sarà una partita non difficile difficilissima probabilmente la più difficile che ci potesse capitare per per le caratteristiche del Cagliari e per le caratteristiche nostre quindi dobbiamo fare una partita super intelligente la nostra grande forza in questo momento deve essere quello di sapere quelli che sono i propri limiti capire quelli che sono i pregi dell'avversario e cercare di evitare il più possibile di andare incontro a cose che si verificano che vanno contro i nostri limiti e sfruttare al meglio quelle che sono le nostre capacità quindi fondamentale non perdere assolutamente sì il primo messaggio che deve passare è ragazzi non dobbiamo perdere questo è in assoluto il primo messaggio a me della prestazione non mi frega proprio niente a me interessa che domani vadano 11 cani in campo a lottare su ogni palla e a cercare di fare risultato in Lega Pro seduta di rifinitura per il Teramo questa mattina per la gara di domani a Forlì che mette in palio punti importanti in chiave salvezza il tecnico Nofri riproporrà dal primo minuto Bulevardi e Caidi al posto di Seffe e Manganelli cabina di regia per Carraro preferito a Petterman a destra ci sarà ancora Sales mentre Scipioni martedì sarà sottoposto a intervento in antroscopia per la pulizia del tendine d'Achille del piede sinistro Petrella non è al 100% ma farà parte del tridente d'attacco con Sansovini e di Paolo Antonio fuori causa Jefferson è forte ascoltiamo nel servizio il tecnico Nofri è chiaro che giochiamo con due avversari che in questo momento stanno sotto di noi e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di prendere il massimo dei punti perché poi il tutto ci darebbe grande fiducia per poter preparare le altre partite questo è un mese secondo me importante perché giochiamo sei gare a cavallo della fine del giorno di andata e del giorno di ritorno poi ci sarà la sosta quindi dobbiamo veramente cercare di dare l'infa vitale alla classifica e dunque dobbiamo fare delle prestazioni secondo me altissime per ritornare con il massimo della posta in palio ne abbiamo già parlato con la squadra mi auguro che tutto questo possa essere stato recepito nel miglior modo possibile perché ora non possiamo più sbagliare quindi quando giochi con le squadre che sono della tua stessa caratura o inferiori devi cercare nella gran parte dei casi di vincerle e ti devi adoperare come fanno loro perché poi con le squadre come può essere stato il Venezia o la Reggiana è chiaro che c'è un'impostazione mentale già acquisita e un rispetto ancora maggiore però con queste squadre noi dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo perché è con loro che dobbiamo sicuramente e abbiamo più possibilità per fare nostra la gara a proposito del Forlì che mi dici è una squadra in ripresa visti gli ultimi risultati sì è una squadra in ripresa è una squadra che in questo momento sicuramente avrà molto entusiasmo ha lasciato l'ultima posizione o meglio è in coabitazione col Manto ma nello sconto diretto ha fatto quattro gol dunque sappiamo benissimo che non sarà facile dobbiamo interpretare la gara in una maniera agonisticamente perfetta caratterialmente dobbiamo essere forti perché poi abbiamo più qualità di loro in certi giocatori ma se non ci imponiamo dal punto di vista della determinazione della corsa dell'aggressività allo stesso livello possiamo complicarci la vita in serie di primi movimenti di mercato tra i dilettanti ma domani torna il campionato con la quattordicesima giornata spicca il derby tra Pineto e Chieti l'Aquila Vastese San Nicolò vogliono restare in scia le prime mentre l'Avezzano cerca ulteriori conferme sul campo dell'ostia mare Andrea Costantini con l'avvento della quattordicesima giornata di serie di si iniziano a vedere i primi effetti del mercato che pochi giorni fa ha riaperto i battenti tra i dilettanti due le società particolarmente attive Avezzano e Pineto il suo talizio Marsiclano ha piazzato due colpi ha tesserato il centrocampista italo-argentino Mattias Colombo che già si allenava in bianco-verde per cui è arrivato il transfert soprattutto il presidente Paris ha portato alla sua corte l'uomo che dovrebbe risolvere il problema del centro avanti Tommaso Marolda che arriva dalla Fermana dopo la super stagione dello scorso anno ad Agnone per l'attaccante Lucano sarà la seconda esperienza abruzzese dopo quella proficua di Teramo nella stagione 2007-2008 i due saranno a disposizione del tecnico Tortora per la durissima trasferta sul campo dell'Ossia Mare seconda della classe che si è rinforzata tesserando l'attaccante Fabrizio Roberti in uscita De Cinque alla Vastese e all'Epo al Castelfidardo molto attivo il Pineto che già diversi movimenti li aveva fatti nelle settimane precedenti ma che ha impresso una ulteriore accelerata alla riapertura delle liste saltato il centrocampista Rosselli dal Catanzaro il Pineto ha firmato l'ex angolana Giulia Nova Marco Mariani e l'attaccante Roberto Palumbo dal Gravina macchina da gol nelle ultime due stagioni due innesti di qualità per aiutare il tecnico Amaulo nella rincorsa salvezza tutto in attesa che si possa formalizzare il tesseramento del difensore Marco Pomante il quale con Pisani comporrebbe una linea Maginò di primo livello i nuovi saranno disponibili per il derby di domani al Mariani Pavone con un Chieti che si sta allenando fuori regione a Grottamare e che ha perso il suo capitano Viscido ha casato sia battipaglia la truppa neroverde si è assottigliata e prima di reintegrare la rossa si attende l'esito dell'udienza di lunedì davanti al giudice fallimentare tornando al girone G ostico match casalingo per l'Aquila che riceve l'annorese l'undici sardo ha appena un punto in meno della squadra di Morgia e soprattutto è imbattuto in trasferta dove ha centrato 12 dei 23 punti in classifica numeri che devono essere da monito per l'Aquila che in attesa di formalizzare i primi movimenti deve restare in scia delle migliori e può contare sui rientri di Russo che dovrebbe prendere il posto di Ganci nel tridente e del difensore Pepe ristabilito anche Gagliardini che punta ad una maglia da titolare nella nuorese mancheranno Bezziccheri Uccia Lopez del Sole e Mendy che si sono svincolati nelle ultime ore saranno in trasferta le migliori abruzzesi del girone F la vastese a due punti della vetta sarà di scena ad Alfonsine l'infortunio del bomber Prisco è meno grave del previsto ma il giocatore non ce la farà essere della partita il tecnico Colavitto dovrà scegliere il sostituto Ballottaggio Marinelli-Galizia Romagnoli senza De Luca e Battiloro ceduti a Castrocaro e Romagna Centro il San Nicolo giocherà a Castelfilardo con l'obiettivo di prolungare a 11 la serie di risultati utili consecutivi in particolare con una vittoria assente Bocca Nera infortunatosi in settimana da verificare le condizioni di Napolano per il resto squadra al completo per il tecnico Epifani Lasciamo il calcio il porto di Giulianova diventa più accessibile grazie al protocollo d'intesa che punta a garantire spazi condivisi senza barriere architettoniche per agevolare la pratica sportiva e turistica per le persone diversamente abili il servizio Grazie all'accordo siglato a Giulianova tra ente porto e circolo nautico si è dato il via ad un progetto denominato Vele senza barriere destinato a soggetti portatori di disabilità motori e sensoriali che consentirà la condivisione di spazi e pontili galleggianti in concessione demaniale nel bacino portuale di Giulianova la condivisione delle strutture faciliterà l'accoglienza di atleti istruttori ed imbarcazioni così da consentire la pratica di attività sportive e nautiche come la vele il canottaggio il nuoto e il sub rivolte ai diversamente abili l'ente porto e il circolo nautico saranno affiancati dall'università degli studi di Teramo dall'azienda per il diritto allo studio e dalla provincia di Teramo dalla federazione italiana vela nonché dal comitato italiano paralimpico e dalle associazioni affiliate la sinergia fra questi attori sarà finalizzata al reperimento dei fondi necessari per finanziare l'attività sportiva e turistica destinata alle persone con disabilità ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione buon fine settimana e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti